È arrivata la primavera e non esiste momento migliore per fare il punto della situazione del tuo business. Perché? Perché le vacanze di Natale ormai sono un lontano ricordo, stiamo uscendo dal torpore invernale ma siamo ancora ben lontane dal caldo soffocante dell'estate che, non so a te, a me brasa il cervello. La primavera è un momento bellissimo che sa di rinascita. Non per niente due anni fa ho scelto proprio il 21 marzo, quindi il primo giorno di primavera, per presentare la mia nuova pelle, la mia nuova veste, quella della Quiet Coach. Anche tu sei pronta per portare un po' di novità nel tuo business, vero? Se vuoi usare l'energia della primavera per dare una bella rinfrescata al tuo lavoro, per reinventarti, per incrementare un pochino la tua produttività e fare finalmente un balzo in avanti, condivido con te in questo episodio nove domande da usare per fare un po' di pulizia di primavera al tuo business. Le ho suddivise in tre macro-categorie. Pulizie personali, pulizie di obiettivi e vision e pulizie operative. Partiamo? Ciao, sono Silvia Lanfranchi e sei la benvenuta nel mio podcast Mettiti Comoda. Questo è il podcast per tutte le donne intorno ai 40, hanno più o hanno meno, che stanno finalmente seguendo il proprio sogno e hanno creato il proprio business online. Ogni settimana imparerai nuove cose sul rapporto con il denaro, la produttività, le strategie di business e tante altre cose per aiutarti a crescere insieme al tuo business e vivere una vita piena di significato. Sei pronta? Allora, Mettiti Comoda che iniziamo! Prima macro-categoria sono le pulizie personali. Quindi sei pronta a farti alcune domande per allineare la tua mente e il tuo corpo con la brillante imprenditrice di successo che vuoi diventare? Allora prendi carta e penna e rispondi. Quindi se puoi prendila, magari falla adesso, proprio appuntati le cose oppure segnati questo episodio e tornaci quando sei un pochino più libera. Ma se anche sei in giro a camminare, magari puoi iniziare a rispondere mentalmente. Prima domanda, sono felice di quello che sto facendo? Molto spesso stiamo ferme nel nostro business perché sentiamo che dobbiamo stare lì. Magari abbiamo investito del denaro in prodotti oppure abbiamo investito del tempo nel costruirci un seguito. Però in fondo, in fondo, se proprio ci ascoltiamo davvero, non siamo per niente felici e sappiamo, anche se magari non vogliamo nemmeno ammetterlo a noi stesse, che il nostro business, così com'è, non è adatto a noi. Quindi sia onesta a proposito del tuo lavoro e abbi, se è necessario, proprio il coraggio di riniziare da capo proprio per la tua felicità. La tua felicità deve essere la tua priorità numero uno e se menti a te stessa, che senso ha? Seconda domanda, sono contenta del mio stile personale? La domanda potrebbe essere, ma sì, ma Silvia che c'entra con il lavoro. C'entra, c'entra, fidati di Silvietta tua. L'immagine di te stessa che vedi allo specchio. Il piacerti o il non piacerti si riflette anche nel tuo modo di esporti nel business. L'arrivo della primavera è il momento perfetto, no? Per dare una rinnovata al guardaroba. Allora, perché non vestirti avendo in mente l'imprenditrice di successo che vuoi diventare? L'imprenditrice di successo che vuoi diventare indosserebbe dei leggings che una volta erano neri e hanno un buco sul ginocchio? Non credo. È arrivato il momento di comprare, non so, uno zaino porta pc, bello, comodo, imbottito, che non ti faccia venire mal di schiena? Ok, metti da parte una piccola somma di denaro per fare un po' di shopping, tenendo sempre a mente i tuoi obiettivi e la tua vision per il futuro. Mi raccomando, ovviamente, non finire in bancarotta. Approfitta di tutti gli sconti, magari dei buoni regalo che hai da parte. E magari, passo ulteriore, potrebbe essere quello di fare un po' di decluttering del guardaroba, di arrivare a minimizzarlo creando un tuo guardaroba capsula. Avere un tuo stile definito e un guardaroba, se vuoi, limitato, ti farà risparmiare sia tempo che denaro. Te lo dice una che è passata da un armadio di 3 metri a uno da 90 centimetri e ha tutto lì la sua stagione, sono i vestiti per la stagione. Terza domanda. Sto facendo cambiamenti salutari alla mia alimentazione e per il mio movimento? La salute è ricchezza. Si dice sempre, insomma, che il corpo è il nostro tempio e quindi il modo in cui lo trattiamo ha un impatto diretto anche sui tuoi guadagni, perché se non stai bene, non lavorerai bene. Quindi, ma impara a mangiare in modo da nutrire il tuo corpo e la tua mente e fai sì che il movimento sia una priorità. Fra l'altro, non servono grandi cose. Con l'arrivo della bella stagione è anche piacevole uscire per fare una poseggiata di mezz'ora ogni giorno. Passiamo alla seconda categoria, che è quella delle pulizie degli obiettivi e della vision. Questo è il momento migliore anche per focalizzarti sulla tua visione a lungo termine del tuo business. Cioè, che cosa vuoi davvero? Quali sono gli obiettivi che ti elettrizzano? Stai facendo dei passi reali per renderli la tua realtà? Ecco alcune domande che ti aiuteranno a chiarire la vision del tuo business e a settare i tuoi obiettivi. Prima domanda. So dove sto andando? Che aspetto ha il futuro del mio business? Visualizzare il nostro futuro e quello del nostro business è importantissimo. Perché se non sai dove vuoi andare, come cavolo fai a fare i passi giusti per andarci? Quindi pensa che cosa voglia dire per te avere successo. Magari non è avere l'aereo privato, ma, non so, fare un weekend ogni tanto via con tuo marito. Quando si potrà di nuovo tornare a viaggiare. Che cos'è per te il successo? Quando potrai dire, ok, sono una persona di successo, sto bene così. Cosa vorresti raggiungere? Dove ti vedi, ad esempio, in questo periodo fra 12 mesi o fra 24 mesi o fra 36, quindi un anno, due anni o tre anni. Seconda domanda. Sto facendo attivamente dei passi per andare in quella direzione? Sì, lo sappiamo tutti. Sognare è bellissimo e non costa nulla, ma senza azione anche piccole azioni imperfette. Ripeto, andato per rinsaldare il concetto del fatto è meglio che perfetto, perché senza azione il nostro sogno resta nella nostra immaginazione, quindi non lo raggiungiamo. Chiediti se le cose che stai facendo adesso ti stanno portando, o meno, nel posto in cui ti vedi il prossimo mese o il prossimo anno. Se la maggior parte del tempo dedicato al tuo business la passi facendo cose che non ti piacciono, è arrivato il momento di raddrizzare la rotta. Terza domanda. Mi sento di meritare la crescita del mio business? Mi sento meritevole di successo? Tosta questa, vero? Se c'è qualcosa che ti sta bloccando dal pensare che il successo sia possibile anche per te, questo è il momento di lavorarci, è arrivata l'ora di lavorarci. Magari sei cresciuta in una famiglia in cui i tuoi genitori dicevano che i ricchi erano brutte persone, col risultato che ti senti in colpa se desideri diventare ricca. Non è anche, oppure magari, non so, una tua professoressa del liceo ti ha detto per anni che non eri brava a scrivere e il risultato è che sei bloccata perfino a scrivere un post su Facebook. Figuriamoci scrivere il blog. Quindi ragiona sul mindset, se vogliamo. Quindi ti senti di meritare la crescita del tuo business? Ti senti meritevole di successo? Ok, ingoiamo questa e passiamo alla terza macro categoria, se vuoi quella più leggera, quella delle pulizie operative. La primavera è il momento perfetto per dare una sistemata al sito, ai tuoi canali social e alla tua newsletter, in modo da essere sicura che tutte le informazioni che hai siano corrette e aggiornate. Prima cosa da fare è una review digitale. Quindi controlla tutti i link del tuo sito, i link interni, i link esterni. C'è bisogno di aggiornare la bio di Instagram? Guarda i tuoi servizi. Sono ancora attuali? Ti piacciono ancora tutti? C'è magari qualcuno che non sta vendendo e a te non piace? Magari lo eliminiamo? Ci sono, rileggeti, magari i post, quelli che hanno più visite. Ci sono per caso dei refusi, degli errori. Fai la stessa cosa che con le sales page. Accerta di proprio che non ci siano refusi, perché poi trovare un refuso nella sales page non fa mai una gran bella figura. Seconda cosa da fare, magari è dare una rinfrescata al tuo branding. C'è da aggiornare qualche elemento del tuo brand? Le sensazioni che ti dà il tuo brand? Ti fanno sentire bene? Ti senti a tuo agio quando ti presenti? I colori? Sono sempre allineati alla donna che sei? Ti piacciono le grafiche che usi sui social? Due anni fa, nel 2019, io ho deciso di fare un rebranding totale, perché non provavo più gioia a raccontarmi con quel logo, con quei servizi, con quei colori, con quel mood. Il rebranding è stato un processo faticoso. E fra l'altro non si è concluso. Il 21 marzo del 2019 è mai andato avanti, diciamo, almeno fino alla fine dell'anno. Però, diciamo appunto, è stato un processo faticoso, ma mi è servito per rinascere e sentirmi finalmente allineata. Magari per te non è nemmeno necessario fare un rebranding, basta un piccolo restyling per vedere di nuovo le cose con ottimismo e con leggerezza. Terza cosa da fare nelle pulizie operative è quella di, questa è tosta, rivedere i prezzi. Da quanto tempo non ritocchi i prezzi dei tuoi prodotti o dei tuoi servizi? Da qualche parte, nascosto dentro il tuo cervello, senti che dovresti alzare i prezzi? Negli ultimi sei mesi, hai lavorato come una matta facendoti un sacco di esperienze sul campo e collezionando tantissime testimonianze positive nella gente che ha lavorato con te super entusiasta? I tuoi canali social stanno andando alla stragrande? Si è risposto sì, tutta con un bella contenta, con un bel sorriso, non mi odiare, perché ti sto per dire che è arrivato il momento di riconoscere che stai crescendo e quindi di chiedere di più per i tuoi servizi. Se aumenti i prezzi, sei tranquilla che non è la vocina che hai nella testa è sì, ma se aumenti i prezzi poi nessuno compra più, no, non è vero, però vado ad aumentare i prezzi poi mi sai dire se è vera questa cosa, perché vedrai che chi ha compreso il tuo valore sarà felicissima di pagarti per quello che vali, anzi, addirittura tenere bassi i prezzi, lo dico sempre che il prezzo fa il posizionamento, quindi avere dei prezzi bassi vuol dire che ti posizioni in una fascia di mercato bassa e non è quello che vogliamo perché noi vogliamo che tu sia, che tu possa brillare. Ok, quindi abbiamo visto quali sono le cose da fare per le tue pulizie di primavera del business, se condividi questo episodio sulle stories di Instagram dimmi anche da dove partirai per le pulizie di primavera del tuo business che sono super curiosa. Se poi vuoi andare più a fondo perché sei stufa di navigare a vista, ti senti perennemente disorganizzata, non sai come aumentare i prezzi, non sai dove andare a sbattere la tua autostima è sempre sotto i piedi, ti aspettiamo nella Mettiti Comoda Academy perché troverai quello che stai cercando sia nella libreria dei corsi che è una biblioteca da cui potrai prendere in ogni momento il libro, il volume che ti interessa, sia troverai il conforto di altri impendiatrici come te nella nostra community che al momento è un gruppo Facebook super affiatato e super positivo e propositivo ma anche nelle call di coaching mensili in cui avrai accesso direttamente a me e potrò rispondere alle tue domande in diretta e quindi sarà più o meno come fare coaching uno a uno con me. Quindi se hai deciso finalmente di fare qualcosa, se con l'occasione della primavera hai deciso veramente di cambiare le cose, ti aspettiamo nella Mettiti Comoda Academy. La trovi su silvialanfranchi.it slash membership. Ci sentiamo nel prossimo episodio, un bacio! Grazie per aver ascoltato questa puntata di Mettiti Comoda. Se la puntata ti è piaciuta ti sarei super grata se la condividessi nelle stories di Instagram. Se lo fai taggami così posso mandarti un saluto. Su Instagram mi trovi come silvia underscore cioè la pratino basso the quiet coach. In questo modo sarà più facile per me capire cosa ti interessa e di cosa hai bisogno e potrò creare contenuti sempre più utili. Se questo podcast ti piace iscriviti per sapere quando uscirà alla prossima puntata e lascia una recensione o una valutazione su iTunes così mi aiuterai a farlo conoscere ad altre persone a cui potrebbe interessare. Se vuoi scoprire come possiamo lavorare insieme e scaricare freebie e regali che ho creato per te vai subito su silvialanfranchi.it alla prossima puntata Alla prossima puntata Grazie a tutti.